Bentornati in questo nuovo video interattivo, oggi andremo a fare il video che ha come titolo un messaggio misterioso da chi non ti aspetti. Allora volevo precisare due cose, innanzitutto per questo periodo ci sarà nel primo canale un video con semplicemente due varianti perché mi sono arrivate tantissime mail per quanto riguarda le curiosità sulla psiconumerologia applicata, cioè tantissime mail dove mi avete mandato il vostro nome e la data di nascita. Volevo precisare uno che non mi occupo di oroscopo e due che non sono previsioni quelle che faccio io con il nome e la data di nascita ma sono semplicemente delle curiosità legate alla caratteristica della sua della vostra personalità legata sia al giorno e al mese della vostra nascita sia al calco numerologico che viene fatto sulla vostra data di nascita e sul vostro nome. Sì ci sono i messaggi dell'universo e oggi nei video successivi andremo a vedere anche il messaggio dell'angelo del destino ma non sono delle vere e proprie previsioni ma sono semplicemente delle curiosità. Detto questo vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere i video e volevo precisare anche che i video su questo canale sul mio primo canale sono sempre degli interattivi perciò prendete quello che risuona con la vostra situazione e con il vostro settore di appartenenza e lasciate andare il resto perché quello che non risuona con voi risuonerà con qualcun altro. Per quanto riguarda il secondo canale volevo ricordare ho fatto un post anche non so chi quanti di voi lo abbiano letto che verranno prese in considerazione semplicemente semplicemente nome e data di nascita che verranno mandate tramite email quelle mandate sotto i commenti o tramite commento non verranno prese in considerazione. Allora iniziamo subito variante 1 diamante rosso variante 2 diamante arancione. Iniziamo subito con il diamante rosso. Allora iniziamo subito con il nostro diamante rosso andiamo a vedere innanzitutto che tipo di personaggi che tipo di persona è legata alla variante numero 1 le persone descritte potete essere voi che ricevete il messaggio ma potrebbe essere anche un'altra persona a cui voi date il messaggio dipende sempre da voi in quale delle due caratteristiche vi riconoscete o riconoscete qualcuno. Andiamo a vedere per la variante 1. Vediamo un po' sicuramente abbiamo un ometto allora o siete voi degli uomini o se siete delle donne potrebbe anche essere che dovrete voi dire un messaggio a qualcuno o sarà appunto quest'uomo a darvi un messaggio a voi allora diciamo che le prime due carte qui ci fanno vedere un personaggio abbastanza tenebroso abbastanza un pochettino arcigno. Questo invece lo vediamo un pochettino più sognatore ha il capo rivolto verso la nostra sinistra e perciò è un qualcosa che guarda al passato guarda a una situazione successa. Anche questo un pochettino il capo rivolto che guarda verso l'alto diciamo che questo invece guarda dritto negli occhi perciò potrebbe essere una persona che ha un messaggio da dirvi abbastanza misterioso che dopo tanto pensare dopo tanto riflettere ha preso la decisione di prendere il coraggio a due mani e rivolgervi questo messaggio che adesso con altre carte andremo a vedere di che cosa potrebbe trattare ma la caratteristica è che appunto questa persona ci ha pensato tanto prima di di fare questo passo. andiamo a vedere che tipo di energia abbiamo in questa variante per la variante numero uno vediamo un po' vediamo che tipo di energia abbiamo per la variante numero uno per questo messaggio misterioso vedo che una persona non ride spesso questa persona non è una persona molto allegra non è una persona che è come dire di compagnia è una persona molto riflessiva molto attenta però è anche una persona abbastanza sarà una persona abbastanza diretta e qui abbiamo due energie che ci portano a una bella conclusione qua ci portano una un'energia di attrazione sensualità e seduzione però mi porta anche la carta della prudenza della saggezza facciamo attenzione a ciò che vi viene detto o ciò che vogliamo dire a questo personaggio è perché qua mi parla di una forte attrazione che questa persona nutre verso di voi o che voi nutrite verso di lei o magari siete entrambi però mi porta la carta della prudenza la carta della prudenza e della saggezza fate attenzione a quello che dovete dire o a quello che andrete ad ascoltare adesso andiamo a vedere se andiamo a capire un pochino di che cosa tratta questo messaggio misterioso che questa che questa figura vuole darvi vediamo un po qualcuno ti blocca non tutto e come sembra e cosa perderai allora qui c'è qualcosa di non tanto piacevole che andrete ad ascoltare perché c'è qualcuno che vi blocca in questo momento vi blocca e allora mi verrebbe da dire che questo personaggio ecco mi sta inquadrando mi sta venendo un'altra ancora un'altra versione che potrebbe venire fuori da questa da questa variante numero uno che sia appunto questo personaggio descritto nelle prime tre carte che vi blocca per non farvi non farvi ricevere questo messaggio oppure non vuole che voi diate un messaggio a qualcuno ricordo sempre che al di là di quello di come io descrivo l'accaduto di come io descrivo le carte la stesa si può riferire o verso di voi o voi verso qualcun altro perciò qui mi sa tanto che per alcuni di voi potrebbe essere questo questo personaggio che vi blocca e vi fa credere quello che non è vi fa credere quello che non è ecco perché dobbiamo fare attenzione al fatto dell'attrazione della sensualità e dobbiamo essere molto prudenti perché se questa persona vi blocca e vi fa vedere tutto in un modo diverso da quella che è la realtà qua tenderemo a perdere a perdere qualcosa andiamo a vedere con i miei tarocchi che cosa che cosa viene fuori vediamo un po andiamo a prenderne per adesso un tre perché la stesa la voglio fare con gli oracoli vediamo un po cos'è venuto fuori qui abbiamo un'energia della imperatrice abbiamo creatività azione fertilità qua c'è qualche cosa che si sta mettendo in movimento qualcosa che tende a crescere qualcosa che tende a crescere abbiamo il successo la professionalità qui abbiamo un re di denari questo in questa situazione potrebbe anche rivolgersi al settore lavorativo e appunto qui abbiamo la carta delle giuste occasioni abbiamo la carta della giustizia dell'imparzialità dell'onestà qua dovete fare attenzione in base a questo messaggio che arriva che ricevete o a questo messaggio che volete dare magari in questo momento vi sentite bloccate o magari capite che questa persona vi sta bloccando nel ricevere o nel dare un messaggio qua dobbiamo essere oneste e dire la verità perché qua mi parla appunto di una situazione in cui si deve essere imparziali perché qua c'è un grande successo qua c'è questo questo uomo abbastanza imponente abbastanza che sa il fatto suo nel settore lavorativo potrebbe essere un collega un datore di lavoro potrebbe essere anche il vostro compagno il vostro fidanzato e lavorate insieme c'è qualcosa che tende a voler crescere però mi verrebbe anche da dire che questo messaggio che vi sta per arrivare potrebbe essere anche da parte di questo di questo re di denari potrebbe essere una nuova e bellissima opportunità lavorativa però appunto che quest'uomo che questa figura non ve la vuol fare ricevere e qui abbiamo la carta della difesa vediamo un po allora la carta della difesa tese seduzione qui c'è qualcuno che vi blocca a livello lavorativo secondo me ragazzi mie e sì sì qua c'è qualcosa in cui voi dovete fare chiarezza perché ci sono dei pettegolezzi cioè è come se questa persona vi abbia riempito la testa di pettegolezzi su questo su questo re di denari e vista in cui in un certo senso seducendo ecco perché la carta dell'attrazione vi sta seducendo ad attendere attendere fino a quando attendere fino a quando non c'è più niente da fare fino a che scadono i termini i tempi fino a che quest'altro personaggio si si stanca di aspettare questa è una forma di difesa che lui fa verso se stesso non verso di voi perché qui appunto per voi mi porta una bellissima forma di benessere di stabilità qua ci vuole un chiarimento che porta un equilibrio con l'uomo con il re di denari poi vi dovete appunto sbloccare da questa perché se no qui andrete a perdere una bellissima occasione date retta al vostro intuito è date retta al vostro intuito perché qui voi diciamo avete la speranza che questa situazione si sblocchi però appunto c'è il pericolo dettata da quell'uomo da quella figura che sta bloccando tutto che voi perdi perdiate questo treno perdiate questa opportunità si è vero la resistenza però anche se dovete diciamo dire la vostra ditela perché poi mi porta la carta della resistenza e del litigio cioè in poche parole voi riuscirete a resistere riuscirete a tenere però prima o poi scoppierete e qua c'è la carta del cambiamento bellissima carta appunto vi renderete conto che vi ha fatto vivere in un'illusione appunto per perdere talmente tanto tempo fino a che il nostro re di denari si stufasse di aspettare la vostra risposta e così voi perderete un'occasione che per voi sarebbe un'occasione eccellente prima variante svegliamoci dai cominciamo a cercare cominciamo a indagare su quello che è la verità la prudenza la saggezza l'equilibrio l'onestà dovete cercare di se avete una situazione del genere andate voi a parlare con questo ipotetico re di denari lasciatelo stare quello che vi dice quest'altra figura che potrebbe essere anche un collega potrebbe essere qualcuno che mira al vostro posto non dico che per forza è la persona che avete accanto che non vuole potrebbe essere un qualcuno che vi ritarda in un certo senso che vi dice che ancora non è il momento di aspettare invece no qua c'è la carta dell'imperatrice e la carta dell'imperatrice è la carta dell'azione dell'azione della creatività dell'energia vi dovete muovere perché se no poi il treno passa e voi l'avete perso ragazze mie prima variante vi aspetto nei commenti mi raccomando vi aspetto anche sul secondo canale iscrivetevi e vi ricordo che nome e data di nascita solo per email non tramite commento per i consulti privati per informazioni sui consulti privati l'indirizzo è sempre uguale io passo alla variante 2 eccoci con la nostra variante numero 2 per chi ha scelto la pietra arancione vediamo un po che tipo di personaggio abbiamo legato alla variante 2 vediamo un pochino vediamo chi è questo personaggio che deve darvi questo personaggio che deve darvi un messaggio misterioso e di nuovo tu no vediamo un po' allora qui abbiamo qualcuno a livello di emozioni perché qua mi esce una carta che per tutte e due volte all'acqua come elemento perciò qua mi parla di un messaggio a livello emotivo qui c'è qualcuno vedete che si rilassa magari state vivendo una fase di rilassamento oppure aspettate un messaggio che vi possa far rilassare e qui abbiamo qualcuno che sta attendendo il momento giusto per potervi contattare e per potervi dare questo messaggio allora è un personaggio un po' malinconico un po' malinconico vedete è un po' pensieroso un po' malinconico ha un potenziale illuminato dentro di sé però in questo momento è accerchiato un po' dall'ombra non riesce a sorridere ha il come dire lo sguardo un po' serio un po' si si vuole far vedere però nel contempo è un po' un po' preoccupato magari della vostra reazione andiamo a vedere a livello energetico che cosa abbiamo per la variante numero 2 vediamo un pochino cosa c'è qui prossimi eventi e abbiamo un sogno una speranza una fantasia potrebbe essere un messaggio legato a un vostro desiderio potrebbe essere un messaggio legato a un suo desiderio potrebbe essere qualcuno che vi vuole contattare comunque i prossimi eventi vi diranno di che cosa andiamo a parlare abbiamo qua però una speranza secondo me questa persona ha bisogno di parlare con voi ha bisogno di dirvi questa e questa cosa perché proprio è un sogno è una sua una sua fantasia siete nei suoi pensieri magari siete nei suoi sogni e adesso vuole e come dire concretizzare quello che è un messaggio che si porta dentro cosa dovresti fare adesso tu questa variante proprio rivolta a voi che state ascoltando il passato e i suoi ricordi secondo me potrebbe anche essere che voi vi conoscete già da tempo o che questo messaggio che vi arriva da questo personaggio è un messaggio che riguarda il vostro passato o il suo passato perché qua mi dice cosa dovresti fare adesso e magari potrebbe essere che siete voi che avete questo desiderio di comunicare qualcosa a un personaggio del genere che fa parte della vostra vita è un vostro desiderio una vostra speranza ma è sempre qualcosa legato al vostro passato magari alcuni di voi hanno avuto un passato in comune con questa persona o è un qualcuno che torna dalla dal vostro passato ma vedere adesso con i miei tarocchi che cosa ci vanno a a dire di più vediamo un po qui abbiamo una persona abbastanza emotivo questa siete voi questa siete voi siete una regina di coppe molto amorevole molto sensibile molto intuitiva gentile siete proprio una persona che rimane legata alle speranze i sogni che rimane legata ai ricordi e questo è il vostro punto cruciale di questo messaggio un qualcosa legato a dei ricordi al passato a una speranza appunto la speranza che si ripete a un ottimismo magari a una situazione che si possa risolvere il rivedere una persona e qui abbiamo audace coraggioso avventuroso sicuro di sé qui abbiamo un bel cavaliere di bastoni che ci porta a far capire che che c'è qualcosa che si deve muovere qualcosa che dovete spingere qualcosa che dovete prima essere sicure di voi stessi e poi dare largo spazio a quello che è l'ottimismo e a quello che è appunto la sistemazione di questa situazione che vi portate o vi portate da un po di tempo oppure è legata a un passato che vi ha tormentato fino a questo momento è ripeto o voi o chi vi deve dare questo messaggio andiamo un po a vedere vediamo la paura del futuro qui c'è qualcuno che ha paura del futuro un futuro che potrebbe questa paura potrebbe diciamo trattare il futuro dalla consegna del messaggio misterioso è però mi parla di sblocco andiamo a vedere un attimo che cosa ci vanno a dire allora qui c'è qualcuno che è stato solo per tanto tempo si è isolato per tanto tempo si è nascosto per tanto tempo ecco perché la carta del passato i suoi ricordi perché qua c'è in ballo un perdono un perdono chiesto un perdono che si vuole ricevere qui adesso abbiamo dei segni segni che vi portano a fare una strategia perché c'è un incontro in ballo e qua c'è tanta fiducia in voi stessi appunto per questo incontro che deve avvenire o che avverrà e di cui voi avete avuto i segni cioè ci sono il sentore di un possibile incontro con questa persona e perciò voi state caricando la vostra fiducia in modo da mettere in atto una strategia appunto per questo messaggio misterioso abbiamo la carta della gelosia tristezza magari dico e di nuovo la paura la paura della tristezza della gelosia perché secondo me qua se c'è stato un allontanamento se c'è stato un distacco una perdita di vista diciamo che non vi vedete da tanto tempo è stato appunto per una gelosia da parte di chi da parte di persone esterne potrebbe anche essere però questo lo dovete vedere voi in base alla vostra situazione ed eccola qui la verità la verità che viene fuori la verità di una passione che secondo me non si è mai spenta e ci sono state delle difficoltà che hanno portato alla separazione la passione ripeto non è semplicemente a livello fisico fra due persone ma può essere per un hobby per un lavoro per un'amicizia ecco ma qua mi parla di collaborazione perciò secondo me il messaggio che riceverete o che andrete a dare voi stessi è un messaggio che porterà qualcosa di nuovo di nuovo porterà qualcosa di buono c'è uno sblocco vedo una strategia vedo appunto la verità che viene fuori è una futura collaborazione seconda variante vi aspetto come sempre anche a voi nei commenti mi raccomando vi aspetto sul secondo canale se qualcuno avesse delle curiosità sulla sua persona sul suo giorno di nascita sul calcolo numerologico non sono previsioni quelle del secondo canale ma semplicemente curiosità abbiamo dei messaggi dall'universo dei messaggi dagli angeli però niente di più questo è il canale delle previsioni io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo al prossimo video